io comunque ho un dubbio cioè poi ovviamente io non ve ne parlo queste cose io non sto più guardando la mia dashboard di twitch a livello di numeri sub qualsiasi roba però c'è una cosa strana il pagamento dello scorso mese di twitch cioè questi raga secondo me tra qualche mese toccherebbe messa ricarica qualche video su youtube perché twitch non l'avevo troppo pompata secondo me mi stanno trattenendo troppi troppi soldi rispetto a quelli che me lo dovrebbero trattenere c'ho sta netta impressione sì dovrei guardarla un po di più mi sa che dopo un'occhiata alla dashboard ce la do perché mi sembra che c'è qualcosa che non mi porta pari come si suol dire e partono qua cioè ma non so se partono tante pubblicità onestamente non so com'è il coso delle pubblicità anche perché quelle poche stream che guardo solitamente sono gli amici miei c'ho il sub però non lo so perché se ne partono tante allora vi dico la verità quando ai tempi vi parlò dell'anno fa forse qualcosina in più partivano tante pubblicità c'è i soldi si le pubblicità li facevi e come adesso le pubblicità ne partono più dei tempi di quando ne partivano ma i soldi di pubblicità non li fai quindi c'è qualcosa in generale che non quadra se non ho 50 sabbi se chiami ora l'uxulerone te donami 50 sabbi io lo chiamo a non grazie per il livello 1 benvenuto c'è qualcosa che non mi torna dovrei dargli una bella occhiatina dopo sai qual è il problema che nel momento in cui cioè ipotizzando che Twitch finisca ok cioè tra virgoletta grandi linee è finita la pacchia cioè nel senso parlamosi chiaro cioè ma è finita la pacchia per letteralmente tutti ma sai perché cioè perché per quanto tu ti porti la gente poi appresso cioè metti caso vai in un altro social e te la porti appresso ok però cioè il 90% no magari il 90 no ma il 70% delle sabbi di chiunque quindi parliamo da quello che c'ha 100 sabbi tipo ecco agiamo che c'è una 30.000 cioè il 70 se non più è è solo prime sì cioè il momento in cui tu vai in un altro coso tu fai forse un settimo dei guadagni che facevi prima ma ma secondo me neanche cioè lì servirebbe tipo che che ne so che arriva tipo boh una piattaforma x e dice senti te 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 e te te e te offro soldi al mese perché se non si sta sotto un treno e sotto un treno non c'è stai perché vabbè un po' di soldi fortunatamente negli anni li hai fatti ma boh non lo so beppe sicuramente questa non è cioè questa è la via proprio del come dice nonno è la via del tramonto e io domani quando stacco la stream mi guardo la dashboard di twitch degli ultimi due mesi perché non la sto più a guarda ma sto sicuro che c'è stanno delle incongruenze perché c'è stata ragazza mia che mi fa le fatture e me me e me le dice e c'è sta qualcosa che non c'è c'è sono delle cose che non mi tornano per pencazzo proprio però boh vabbè tanto c'è sta tanto rega ogni cosa deve prima o poi finire magari non finiamo noi a livello di personaggi di social tocca fare altre cose ma a livello di piattaforma può essere che che sta arrivare al capolinea anche perché comunque ci sono delle partner e chi ha un po' più sub un po' più seguito ha e adesso cambiano anche quelle quindi è proprio sinonimo di finire i soldi perché nel momento in cui c'è tu c'hai nel momento in cui parliamo d'italia c'hai i migliori creator italiani c'hanno una partner e tu gliela vai a levare vuol dire che non te ne frega più un cazzo cioè vuol dire che non c'hai più i soldi e basta e non è che c'è sta altre cose allora ah non è che sta per morì cioè qua non è che si tratta sta per morì cioè sta andando a morire che cazzo mi prendo qua e non è che dall'oggi al domani muore però capito queste sono tutte cose si sono tutti segnali cioè che uno dice torna su youtube ma non è facile ma morì devo iniziare a caricarci i video ma non è così che funziona ehi frene sono la tua migliore amica azzarde grazie per i cinque bentornato per questo io dico sempre alle persone che seguono seguiteci su instagram seguiteci qua seguiteci della perchè poi se tu a twitch ci succede qualcosa la voglia puoi entrare su twitch poi dovrei entrare in teoria a fare live su tiktok che mi hanno invitato al programma partner ma raga cioè a me ci vedete a me a fare live su tiktok si ma quanto duro non puoi neanche bestemmiare e vieni bannato ma se devo stremmare così raga vado a lavoro cioè faccio coi soldi altre robe vado a lavoro cioè non mi troverò altro da fare nella vita non è un problema come dice il fazione piuttosto andammo a flippato burger al mcdonald cioè a meno che in una guarda allora si arriva un'azienda e mi dice guarda fre tu non devi dire più parolacce e bestemmi io te do boh 500 mila euro l'anno un milione l'anno o comunque uno stipendio gigante ah si eh lì non mi interesserebbe cioè ve lo dico proprio con la mia onesta opinione e onesta intellettuale cioè lì se poi entra un ragazzo che mi segue da una vita che gli dà fastidio che non dico cioè che non che non sono più me stesso cioè lì poco me ne frega ma non per cattiveria ma perché comunque rimane la rimane la mia unica opportunità di guadagnare dei soldi e quindi la colgo però se devo se devo adattarmi poi a quelle che sono le piattaforme e sta porco di affà veramente il vostro caro dexter eh poi penso che nei social c'è un momento in cui bisogna di basta perché se no ci si ridipolizza e e bah basta avere giocherigno sì cioè giocherigno alla fine non è un cattivo ragazzo cioè non credo che sia un cattivo ragazzo giocher semplicemente il suo l'ha vissuto i suoi momenti di di gloria su youtube l'ha vissuti semplicemente eh da da molti anni a sta parte è arrivato il momento di di appunto fare altro però lui continua a insistere la gente poi lo prende per culo perché però poi i social diventano la una lama a doppio taglio l'anno prima si è lì i dolori tutti l'anno dopo si prendono per culo questo è quanto